Il nuovo corso del piano di zona comincia a far sperare in un futuro completamente diverso rispetto al passato. Sbloccati alcuni servizi assistenziali, in particolare per gli anziani, c'è da risolvere altri problemi, perché i fondi sono sempre quelli che sono. Ma l'aspetto politico pare aver trovato un percorso importante, rinnovato, con la possibilità che vecchi rancori siano stati finalmente abbandonati e che si cominci a guardare all'interesse dei cittadini in primi, se non alle beghe interne. Il sindaco di Nocera Inferiore comunque auspica atteggiamenti di apertura, in particolare da parte del comune capofila Scafati, rispetto a una gestione che il primo cittadino torquato ritiene assolutamente censurabile. Io credo che vi siano delle ragioni fortemente critiche rispetto all'attuale del piano di zona, ma anche delle speranze reali, realistiche. La questione dei bandi è in corso. Ovviamente la faticosità del lavoro fa contrasto con la mole enorme di domande pervenute. La dirigenza attuale ha fatto una scelta autonoma rispetto al comitato istituzionale, ma rispetto almeno alla posizione di Nocera, che è quella dell'interinale provvisorio per coprire un periodo di tempo tramite l'interinale dei profili che vengono o sono da individuarsi poi mediante bando. Alla scadenza del periodo interinale, che dovrebbe avere una scadenza temporale di quattro mesi, si dovrebbero essere completate le procedure di bando. Per quanto riguarda i servizi invece alcune cose si stanno sbloccando. Penso ai fondi PAC, penso ad alcuni servizi assistenziali per gli anziani. Credo che ci sia ancora molto da fare, ma c'è da riconsiderare il ruolo istituzionale di tutti i comuni, anche il ruolo del comune capofila, che a questo punto o viene ripensato con una turnazione di funzioni e di rappresentanza o ripensa se stesso su come approccia il rapporto nella gestione del piano di zona, che a mio parere è censurabile per come si è svolto in questi anni.